Eccoci qui, buonasera, buonasera, buongiorno, seggiorno dai microfoni di Web Radio 11.11, oggi vi parlo dal mio studio qui al nostro studio di New York, come vedete è già notte, è alle mie spalle e quindi questa sera è una serata particolare, abbiamo con noi il il top dei top di gamma per quanto riguarda le scoperte diciamo che possono aiutarci per capire meglio cosa si nasconde dietro questa pandeloro. Allora, intanto saluto anche gli amici della radio, sappiate che siamo anche in video e faccio entrare il mio amico, inseparabile amico Rocco Mascitti, aspetta ti ridò il microfono, eccolo qui. Ciao Antonio, un caro abbraccio a te, un caro abbraccio a tutti i ascoltatori di Web Radio 11.11, Web Radio Visione 11.11, la radio del risveglio, un abbraccio a tutti coloro che sono in chat in radio e che sono in chat video laddove la diretta fosse già partita su YouTube. È partita Antonio? È partita dappertutto. Perfetto. E poi che dire, noi potremmo andare anche su Facebook in diretta però penso che due dirette già sono abbastanza e chiaramente ci sono gli affezionatissimi che ci ascoltano ancora in radio e dicono che la radio ha più un'anima, no? Perché se si sentiamo, si sentiamo, si sentiamo anche in video perché poi ci sono delle trammissioni come quella appunto... No, ti hai rifrizzato un attimo, sì sì ci sei, ti hai rifrizzato un attimo. Poi ci sono trammissioni come quella di questa sera dove c'è bisogno anche del video perché dobbiamo far vedere dei link, delle cose insieme al dottor Biscardi che salutiamo e che... al quale diamo benvenuto. Ciao Mimmo! Eccolo qui! Allora, prima di dare la parola a Mimmo, volevo, siccome vedo già la chat in movimento, allora, a tutti quelli che mi stanno scrivendo come mai l'orizzonte degli eventi non c'è, in effetti è soltanto una settimana, è mancato perché hanno avuto problemi familiari, uno dei due, uno dei tre, quindi non vi preoccupate, venerdì prossimo ci sarà di nuovo l'orizzonte degli eventi con Tom, Matt e Nick, quindi tranquilli che ritorneranno. Per adesso ascoltatevi in mancanza dei tre vostri beniamini, immodestamente ascoltate noi e forse anche qualche notizia riuscirete ad averla anche qui dal dottor Biscardi che è il massimo, diciamo, esponente in questo momento per quanto riguarda la ricerca fuori dal sistema. Poi voglio salutare... Scusa, aspetta, finisco un attimo perché la chat è importante. Voglio salutare Marco Mereu che ci saluta da Nottingham e dice che dopo sei mesi di ascolto su Spotify finalmente ho la possibilità di seguirvi anche live su YouTube. Beh, ragazzi, YouTube è effettivamente un canale importantissimo e grazie a YouTube veramente stiamo arrivando dappertutto. Infatti credo che mi abbonerò proprio a YouTube come canale, diciamo, privilegiato, pagando qualcosa ma almeno siamo anche protetti in un certo modo. Quindi, prego Rocco, saluto anche quelli della chat, della radio e passo la parola a te Rocco. Aspetta che ti tolgo sto coso davanti. Vai, vai. Un abbraccio a tutti, come dicevo. Pronto abbiamo sentito la voce di Mimmo, del dottor Domenico Biscardi. Mimmo, ci sei? Benvenuto. Sono detto buonasera a tutti. E allora, la trasmissione di questa sera, finalmente c'è il ritorno di Domenico Biscardi che insomma era un affezionados con noi. La trasmissione di questa sera è intitolata Nella Tana del Bianconiglio, ultime novità sul siero magico e abbiamo con noi il dottor Biscardi, un ricercatore, un medico anatomopatologo, ultrasonologo, biomedico, farmacologo e molto molto altro. Detto questo, dicevo, un saluto a tutti coloro che sono in chat, in radio. Chiaramente coloro in radio, se vogliono, se non hanno un cellulare e basta, possono collegarsi anche con la pagina di YouTube. Per esempio c'è Anna Baraldi del Brasile che ci saluta e ci dice, carissimi ci siete Antonio Rocco, dove siete? E io ogni volta ricordo che ci sono gli indirizzi nella pubblicità che facciamo, non sento passo su YouTube ci scrivono e quindi vedo che c'è tanta gente già su YouTube in diretta. Antonio, se vogliamo incollare l'indirizzo per coloro che ancora non hanno capito come fare per vedere il collegamento su YouTube, mettiamolo anche sulla chat di Spriga, della radio, no? Perché ricordiamo che gli ascoltatori ora si dividono, quindi non tutti gli effettivi che ci sono su YouTube sono effettivamente quelli che ci ascoltano, perché ci sono, che ci ascoltano e ci vedono, ma ci sono anche coloro che stanno ascoltando semplicemente la radio. Dico soltanto una cosa di un minuto, questa sera il dottor Biscardi aprirà la serata spiegando alcune cose, poi faremo ascoltare un audio e vi invitiamo cortesemente, come facciamo sempre con le altre trasmissioni, di condividere questa trasmissione e farla girare in tutta Italia, perché qualcuno direbbe una trasmissione bomba nel senso buono della parola, perché la ascolterete forse per la prima volta. Scusa un attimo, chiedo scusa agli amici della radio, non avevo azionato il microfono anche per la radio, quindi chiedo umilmente scusa, quindi i primi, non so, quanti minuti è che abbiamo iniziato, i primi dieci minuti non si sono sentiti. Mi dispiace, casomai dopo rimetterò la registrazione tutta completa. Scusate. Ok, abbiamo messo comunque il link della diretta video sulla chat di Web Radio, proprio sulla radio, e siamo quindi in diretta anche su radiovisione, quindi in diretta anche televisiva. che stavo dicendo? Mi sono perso? Che volevo dire? Mi sono perso, non mi ricordo che cosa stavo dicendo. Antonio, mi vieni in soccorso? Eh no, adesso sto controllando bene i microfoni. Mimmo, che stavo dicendo? Perché, ah ecco, il dottor Biscardi farà una premessa, questa sera faremo ascoltare un audio, è vero, è lungo. Forse radiofonicamente non abbiamo mai mandato audio così lunghi, però è importante che voi sentiate questa cosa e che giri tutta Italia, poi lui spiegherà spiegherà il contenuto all'incirca, presenterà questo audio, dopodiché rientreremo in studio e termineremo sempre con il dottor Biscardi che ci vennerà a trovare la settimana prossima, avremo un appuntamento con lui ulteriore perché le cose da condividere sono tante. Aggiungo soltanto una cosa che per me è scontata, però per forza per molti non è scontata. Io questa mattina ho vissuto una telefonata bellissima con una persona splendida che conoscerete in radio, quindi per adesso non dico il nome, e Antonio la conosce, e questa persona Mimmo la conosce, e dico soltanto una cosa, che in questo momento è importante il rischio di coscienza, quindi a noi ci interessa, ci preme che nelle piazze, nelle strade, ovunque ci si attivi tutti quanti uniti, a prescindere se delle persone hanno poi, che salgono sui palchi, possono avere interessi partitici o si candideranno, l'importante è che quando salgono sui palchi non rappresentano nessun partito politico, perché in questo momento è importante lavorare per il bene di tutti quanti, per la popolazione. Dico soltanto un consiglio che do, ed è molto importante, noi non ci siamo inventati niente, Antonio e io, con questa web radiovisione 11.11, a parte che ci stiamo da 11 anni. C'è gente che grazie alla pseudopandemia ha trovato un approccio per innalzare il proprio ego. La mia non è una polemica, è solo una constatazione, perché io non mi sento una star, star al massimo il doppio brodo star, o le stelle che sono sopra di noi, e almeno parlo per me, ma parlo anche per Antonio, parlo per Mimmo, certo le gratificazioni ci fanno piacere, però noi facciamo questa cosa in maniera incondizionata, perché il nostro guadagno è il risveglio di coscienza. C'è gente che vive di ego non smisurato, quindi parlo di influencer, parlo di attivisti, di ricercatori, che quando parlano alle persone si credono dei padri eterni. Il messaggio che vogliamo dare è molto semplice, quando ascoltate qualcuno in piazza, ascoltate, attingete, in piazza, nelle trammissioni, anche qui in radio, attingete, ma non identificatevi, cioè non dipendete da qualcuno, altrimenti non sarete mai pilastri di voi stessi. Questa è una cosa importante, quindi non ci identifichiamo in nessuno, non esistono i guru, non esistono i profeti, i profeti era un gruppo che cantava negli anni 70, Antonio, quindi facciamo questa cosa qui e soprattutto non cadiamo nella trappola dell'ego, lo dico soprattutto a molti che salgono sui palchi e si credono degli dei in missione, perché qui non c'entra proprio niente l'ego, qui è in ballo il futuro dell'Italia e del mondo. Mimmo, prego, scusatemi di questo prologo, ma era importante, per quello che sta succedendo. Buonasera a tutti, anche stasera cercherò di spiegarvi nel mio modo possibile quello che abbiamo scoperto, quello che grazie al nostro amico del quale fra un po' sentiremo questo splendido audio che mi ha mandato stamattina, lui per ovvi motivi non può venire in radio, né si può far vedere, ma lo dirà lui stesso in quest'audio. È un po' lunghetto, però vi chiedo a tutti di ascoltarlo con tanta attenzione. Il nostro amico Francesco è uno del nostro gruppo di ricerca ed è quello che ha avuto questa intuizione geniale che poi è stata logicamente avvalorata dalle prove scientifiche di laboratorio, dalla nostra ricerca e quindi praticamente è giusto che sia lui con la sua voce, anche se camuffata, a spiegare quello che lui ha scoperto e che poi noi abbiamo. Il bello del gruppo di ricercatori è questo, che ognuno, come è successo per Luigi, come è successo prima ancora per Franco e un altro Franco, con questo Francesco qui, ognuno ha avuto un'idea, ognuno ha portato qualcosa. Quindi quando siamo in tanti, vedete, è semplice una cosa, ognuno praticamente porta quella che è la sua piccola ricerca e il puzzle è completo. Invece quando ognuno lavora nel fatti suoi, nel proprio egoismo, ognuno ha un pezzo del puzzle in mano e non riesce mai a concludere. Quindi niente, non rubo altro tempo, perché è abbastanza lunghetto l'audio di Francesco, se tu vuoi partiamo subito e poi dopo alla fine vi spiego in modo più tecnico, più scientifico, perché Francesco, diciamolo, che non è un medico in un biologo, è un bravissimo fisico, un fisico quantistico. Anche un ricercatore, insomma. Certo, lui è un ricercatore, è un fisico, è l'ora di fisica ed è un ricercatore. Noi dobbiamo dire che gran parte di questa ricerca, buona parte, l'abbiamo fatta con i fisici, vedi il professore Vincenzo Iorio, che lo posso tranquillamente nominare, non so, ospite tante volte, quindi, e altri, il professor Vincenzo Bellini, sono tutte persone che con la medicina hanno poco a che fare. Io direi che l'apporto medico in questa ricerca è stato quasi zero, anzi, è stato solo un danno medico, perché i medici hanno fatto solo danni, a parte fare i vaccini, ma non hanno fatto niente. Sono stati quei pochi medici praticamente che, come noi, siamo i complottisti, i biologi, i chimici e i fisici. I fisici hanno fatto un grande lavoro. Va bene, non mi dilungo più di tanto, Antonio, se volete partire con l'audio, perché è interessantissimo, spero che a tutti faccia piacere. Se vuoi mettere un fondo, non lo so, qualcosa.